Il pallone del campo 2 l'abbiamo trovato per terra la mattina e sembra dalle prime stime che non potremo recuperarlo, quindi probabilmente verrà sostituito. Ancora una volta gli impianti sportivi vittime del maltempo ad Arezzo le forti raffiche di vento hanno infatti sradicato e poi distrutto il pallone di copertura di un impianto tennistico. Purtroppo è la frequenza che spaventa perché siamo pronti, abbiamo tutte le cautele necessarie, non c'è mai un pericolo per le persone, però il danno economico rimane. Non si tratta purtroppo del primo danneggiamento negli ultimi mesi sempre a causa del maltempo. Negli ultimi sei mesi è la terza volta, a ottobre c'è caduto il pallone doppio che però abbiamo risistemato e a marzo abbiamo avuto un evento del genere. Il problema è che per le strutture sportive sembra ormai essere una consuetudine. So che a Prato hanno perso le strutture, Sansepolcro a tutti e due i circoli sono in ginocchio, forte in marmi l'anno scorso, Poppi tre settimane fa. Quindi purtroppo inizia a essere una triste consuetudine anche impegnativa dal lato economico perché comunque sono sempre strutture che vanno ripristinate. Infatti che danno è stato per voi? È un prezzo statico nuovo, costa intorno ai 35 mila euro e ora dovremmo cercare di capire come fare. Sicuramente grazie a Dio per noi non è una cosa insormontabile perché diciamo che nella programmazione economica si tiene in conto anche questo. Sono cambiate anche le polizze assicurative proprio in funzione di questo nuovo clima e torneremo come prima.